Ciao a tutti, io sono Liliane e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è il 31 dicembre, il 2018 è finito, speriamo che il prossimo anno sia migliore di questo, anche se ormai non ci crede nessuno. Per oggi avevo intenzione di fare un video sui buoni propositi per il 2019 e dividerò questo video in due parti. La prima parte sarà riguardante il canale, mentre la seconda riguardante i libri. Sarà un video breve perché non farò tantissimi propositi, non mi metterò tantissimi obiettivi perché già so che non riuscirò a rispettarli, quindi meglio pochi ma buoni. Speriamo di poterli portare al termine, soprattutto i propositi libreschi. Allora, partiamo subito con le notizie del canale. Allora, ho intenzione di fare una nuova grafica, quindi nei giorni a venire vedrete una nuova grafica. Io la rifaccio con Canva, che è meraviglioso, lo stesso che uso per fare le copertine dei video. Io la doverò tantissimo, quindi farò una nuova grafica con Canva, anche se in realtà l'avevo fatto anche precedentemente. La grafica che c'è adesso è sempre di Canva, però adesso si è aggiornato. Si è aggiornato, infatti la grafica che c'è attualmente, quella che ho usato fino adesso, è fatta con Canva 1.0, mentre quella che farò è con Canva 2.0, con l'aggiornamento. Quindi vedremo, vedremo come va questo nuovo aggiornamento di Canva e speriamo che possa essere migliore di quello che c'è adesso. Poi ho intenzione di non fare più i preferiti del mese, perché sono video che non mi piace più fare e vedo che non piace neanche a voi, perché sono i video che hanno meno visualizzazioni rispetto a tutti gli altri, quindi evito di fare una cosa che non piace a me e non piace neanche a voi. Però voglio sostituire i preferiti con Wapapp e Bookcall, sperando che possano piacere di più. E ultima cosa, farò due video a settimana, però questo non partirà da gennaio, bensì da febbraio. Partirà da febbraio perché io ho un attimo da fare, cioè è già troppo che faccio un video a settimana, tra gli esami e una cosa in altra, insomma, a partire da febbraio e farò i video martedì e giovedì sempre alle 17. Bene, adesso passiamo alla parte libresca. Ho intenzione di mantenere la TBR del 2018, perché non l'ho rispettata, voglio rispettare prima quella del 2018, ho fatto finire quella, perché sennò sarebbero tantissimi libri in più, cioè non ce la faccio. E vorrei però aggiungere anche qualche thriller horror. Vorrei aggiungere qualche thriller horror perché a me piacciono, solo che quest'anno ne ho retti pochini. Quindi sì, ecco queste... insomma... Poi vorrei rispettare anche la mia wishlist di Amazon, anche se qualche regalo per Natale mi è già arrivato dalla wishlist. Adesso che arriva il mio compleanno vorrei farmi regalare qualcosa della mia wishlist. Infatti stavo pensando a proprio questa mattina, che magari i book haul potrei farvi ogni tre mesi per notare, che vi faccio anche vedere i regali di Natale, perché io faccio il compleanno a marzo, quindi ogni tre mesi posso farvi questo... non lo so parlare... Posso farvi questi nuovi video, vi faccio vedere sia regali di Natale che regali del compleanno, quindi fine marzo partiranno anche i world up e i book haul. E ultima cosa, i preferiti di dicembre, che pubblicherò a gennaio, settimana prossima, sarà l'ultima dei preferiti, ok? Quindi da quel video in poi non ce ne saranno più. Bene, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, attivate la campanellina e se volete seguitemi su Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!